Sapete cos'è il FIAP? Sapete cos'è il FIAP? No. No. Allora, il FIAP è un titolo che si dà a chi vince molti concorsi fotografici. Come modello o come fotografo? Io non mi dispiace, però in questo caso come fotografo. Parlerete anche di calcio? Io sono il FIAP. Quindi state attenti a fare le fotografie perché io mi so giudicare. Era una passione che arriva da mio papà il quale amava le fotografie anche lui. Stampavo io le mie fotografie. L'età in cui avevo il tempo la sera di stampare le fotografie e lei, quello che annuisce con le mani, si davano i chiari e i scuri le fotografie. Naturalmente ho vinto un sacco di concorsi anche qui nella vostra zona. fare foligno o roba del genere. Mi metto un sacco e dopo al fine immeritatamente mi è arrivata la papardella. Tanti auguri, signore. Grazie. Parlerete anche di calcio oggi? Parlerete anche di calcio? L'unica cosa che lei non può parlare a me è di calcio. Può parlare di tutto fuori che è di calcio. Si nervosisce. No, non mi nervosisco. Lo ritengo inutile. Anche se necessario. Però non è la mia passione principale. Grazie. L'unica è di scuola e porti. Vero, vero. Ma noi non l'abbiamo battuta. No, ma siamo amici dell'eternata. Sempre. Siamo arrivando dei giocatori insieme anche, mi pare. Uno che è un matacchione. Ho fatto un centroattacco fortissimo a voi. Che poi è venuto a Cremone che poi è tornato da voi. Vabbè. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Buon lavoro. Buona giornata.